Ma questo grande fratello a causa del suo straordinario successo, da parte di tutto il nostro pubblico si prolunga ancora per un po'. Alfonso io sono arrivato, io non riesco a contattare. Ma dai, ma no, non esiste, ma non esiste. No, io Alfonso mi spiace, io finché ho potuto, sarei arrivato l'8 febbraio ce la facevo, l'1 marzo ce la facevo, non ce la faccio più, te lo dico onestamente. Guarda, non credimi, io ho dato l'anima a questo programma, ho sempre accettato il prolungamento, ma questa volta io devo essere onesto anche con me stesso e tararmi in base a quello che sento di poter continuare a dare e non ce la faccio. Tommaso della tua onestà io me ne sbatto perché era uno scherzo! E vai!